Quella che abbiamo appena detto è la legge di Lenz, cioè che il circuito cerca di contrastare le variazioni del flusso B attraverso la generazione di una corrente. Siccome in questo caso il flusso aumenta quando quest'assa si sposta qua, allora il circuito reagisce facendo girare una corrente in questo verso, perché in questo modo per la regola della mano destra il circuito, la corrente indotta, attraverso la corrente indotta I produrrà un campo B indotto, che chiamiamo BI, verso il basso, che va a contrastare parzialmente l'aumento del flusso del campo B.